Il campo ha parlato che noi dobbiamo fare i play-out, quindi noi della giustizia sportiva si aspettiamo, ma comunque io e i miei compagni di squadra stiamo solo pensando ai play-out a Vicenza, cerchiamo di preparare questa partita al meglio, di ottenere un risultato positivo lì e di salvarci al più presto. Sì, agli ultimi 10 minuti stavo proprio soffrendo perché ero andato sopra a sforzo, sono andato veramente oltre il limite delle mie possibilità fisiche, infatti gli ultimi 5 minuti stavo piegato per terra perché non riuscivo più a correre, però è stata un po' la partita che ti ha portato a fare questo sforzo. Speriamo di non ripetere questi sforzi a Vicenza o in casa, ma di arrivare al risultato con più tranquillità. Sì, la gara è andata, abbiamo fatto una grande partita e poi a Vicenza gli arbitri con tanta gente si fanno un po' condizionare e abbiamo dato un rigore quasi inesistente. Poi qua in casa io non c'ero, però ho visto la partita da casa e penso che abbia fatto una delle migliori partite dell'anno. Poi comunque due episodi non siamo riusciti a portare i tre punti a casa. Però comunque sono del parere che noi siamo una squadra che può dar fastidio a tutti, come abbiamo dimostrato con le due vittorie col Padova sia in casa che fuori, quindi noi non abbiamo paura di nessuno, andiamo lì per conquistare la salvezza che ci meritiamo. Sono tante parti che faccio a sinistra, sono abituato, io comunque provo a dare il massimo, ho che gioco a destra o che gioco a sinistra, io sinceramente posso giocare pure in porta, a me è importante che arrivino i risultati.